Ricordi anche l'abbattimento di quel treno sui Balcani ad opera della Nato in cui morirono un sacco di persone, di civili, di bambini? Certo che sì, me lo ricordo e come, anche perché io poi sono assolutamente legato e vicino alla popolazione serba e a Belgrado, che ritengo una delle culle della nostra civiltà, un luogo splendido e resistenziale oggi rispetto alla mondializzazione capitalistica. Hanno pagato caro la loro resistenza nel 99. Milosevic fu un patriota socialista che pagò carissimo il fatto di non essere allineato, ma è lo stesso che sta avvenendo, per cui io ritengo essenzialmente che bisogna nutrire speranza negli stati resistenti, perché essi stati resistenti, come diceva il mio maestro Costanzo Preve, è come se mettessero il piede nella porta dello stipite del capitalismo globale prima che essa si chiuda per sempre. Cioè ci insegnano anche a noi a resistere, svolgono una funzione equivalente di senso rispetto al comunismo novecentesco dell'Unione Sovietica, che con tutti i suoi limiti ha posto un confine chiaro e netto rispetto al delirio d'onnipotenza dell'imperialismo americano. Ed è quello che sta facendo mutatis mutandis Putin oggi. Putin oggi è la rinascenza di una Russia non asservita agli Stati Uniti d'America, quale invece fu quella di Yeltsin e prima ancora di Gorbaciov, cioè due pretoriani al servizio degli Stati Uniti d'America. Infatti se il presunto dittatore siriano non è ancora stato abbattuto, lo si deve all'intervento di Putin sostanzialmente. Certamente, perché la presenza di Putin, ossia di una potenza che non può essere trattata come la Libia o come l'Iraq evidentemente, per ovvie ragioni di rapporto di forze, ricrea una situazione che a tratti richiama quella pre-1989. C'è una situazione di equilibrio e di guerra fredda in parte, dico in parte perché è solo in parte così, ma la Russia di Putin nel caso della Siria ha ricreato quella condizione di congelamento del conflitto. Se non vi fosse stata la Russia di Putin sicuramente oggi non vi sarebbe più la Siria di Assad.